Ciao, non si è morti fin tanto che si desidera sedurre ed essere sedotti. La seduzione non è soltanto un qualcosa che, diciamo, viene messo in atto per conquistare le persone, ma anche e soprattutto per conquistare noi stessi, perché avere voglia di sedurre, avere voglia di essere sedotti, in realtà è energia, energia che possiamo dedicarci e quindi è energia che ci dà vitalità, è ciò che ci aiuta a restare giovani. Fin tanto che si desidera questo desiderio di sedurre, di essere sedotti, di coinvolgersi, si sente la vita scorrere dentro, per cui si è vivi, si è vitali, si vive veramente, non si è soltanto al mondo, fondamentalmente. Per cui dobbiamo cercare di dare degli stimoli, di stimolare questo nostro desiderio, questa nostra, come dire, prerogativa di essere umani, di coinvolgere, di vivere il pathos, di vivere l'innamoramento. Se lo facciamo, se abbiamo questa capacità, se abbiamo questa forza, magari inizialmente ci costerà un po' di fatica, perché quando le persone poi si lasciano andare, vorrebbero magari, in seguito di delusioni, chiudere ogni canale, diciamo, seduttivo, comunque di relazione sentimentale. Invece dobbiamo sforzarci di aprirlo, perché nel momento in cui lo apriamo, sentiremo nuovamente la vita scorrere dentro, per cui dobbiamo fare questo sforzo iniziale che ci darà grandi benefici successivamente. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!